Salve a tutti, sono Peppino Dorgoni. Se stasera mi prestate un minuto di tempo, vi voglio parlare della mia azienda e dei servizi che vi possiamo offrire. La ditta Peppino Dorgoni è ormai da quasi due decenni affermata a Prato come un'organizzazione in grado di offrire nel settore vuotatura pozzineri e stasatura canali un servizio di grande affidabilità e garanzia. Noi garantiamo il nostro intervento per ben sei mesi, infatti qualora si verificassero inconvenienti o disfunzioni entro tale periodo, noi rieffettueremo l'intervento senza alcun costo ulteriore. La nostra azienda si avvale di mezzi tecnologicamente avanzati ad alta aspirazione che garantiscano un lavoro perfettamente igienico, silenzioso e inodore. Effettuiamo convenzioni con condomini e comunità a prezzi particolarmente vantaggiosi con ulteriori sconti per pagamento in contanti. E ricordate, dopo ogni intervento la disinfezione è compresa nel prezzo. Avete sentito? Questi sono fatti e non parole, perché Peppino Durgoni è competenza, qualità, risparmio e soprattutto onestà. Contattatemi, diventeremo amici. A presto!